Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. A Pistoia, per lavori di ripristino strutturale al viadotto sul torrente Ombrone, in località Capostrada, ha chiusa la bretella di collegamento tra la strada regionale 66 Pistoiese e la statale 716 Raccordo di Pistoia. Infibili per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone, sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!